...di presentarvi la mia persona speciale. Ah, eccomi qua. Ero Poggi. Diego! Diego, ma c'è la che... Ah, chi il luccio? Ma lei chi è? Ci conosciamo? No, no, la... sono solo di fama. Diego, che sto Poggi? Perché? Perché l'amante è brutto di mia moglie. Ah, sì, hai ragione. Come sì? È ripetita brutto. Ma qua brutto, Diego, io sono l'amante di sua moglie, io! Dica la verità. Sì, dica la verità. Signora, dite, ma lei, che intenzioni di fare? Ah, io voglio solo uccidere l'amante di mia moglie. Ah, lo vuoi uccidere? A presto! Sì, è lì davanti di sua moglie, lo scambi di cantare di Salvatore! Vi scazziamo! Eh, male, male, ascoltiamo il cuore. Eh, male, male. Dottor, perché ti trevano? Dottor, non fatemi preoccupare. La situazione è grave, si spoggi. Cosa? Si spoggi, si spoggi, si spoggi. Ma che è il parrucchiano? Salute pace e bene per colore del signore. Sabato 14 marzo Alle ore 19 Presso la scuola media Amerigo Vespucci I facci class in Guarda chi ti porta a casa papà Non mancate!